Musica Concluso il cantiere di Piazza Cavura a Domodossola, da giovedì sera si transita anche nelle vie Marconi e Binda. Mirella Cristina, candidata a sindaco del centro-destra, Fratelli d'Italia, Tace, Brezza, Tacca, Verbagna, Merce di Scambio. Partiti i rilievi tecnici sull'edificio dell'ex fabbrica Irmela Omenia, lo stabile dovrebbe ospitare un parcheggio. Arona risulta essere tra le prime dieci città in Italia per introiti derivanti da sanzioni per infrazione rilevate da autovelox. Apparecchiature tecnologiche a redi, 120.000 euro, il valore delle donazioni di Pedia Coppa all'ospedale di Domodossola. Bocce Raffa, bel pareggio per il possaccio che contro Dalterio e Compani portano a casa un buon punto. Buona serata dalla redazione di Vicia Notizie, ben ritrovati a questa edizione del nostro telegiornale. In apertura andiamo a Domodossola per parlare del progetto di riqualificazione di alcune vie del centro città. Da giovedì sera riapre al traffico l'asse via Binda-via Marconi prima dell'estate al via Rifacimento di Piazza Cortesia. Attenzione alla viabilità. Domodossola mette un punto ai lavori di riqualificazione del centro città. A partire da domani sera le vie Marconi e Binda con Piazza Cavour saranno restituiti alla città. Ha terminato il cantiere che ha portato alla riqualificazione urbanistica di un importante asso viario. Per la verità in Piazza Cavour mancano alcune opere di rifinitura, le panchine per esempio, arredi all'illuminazione pubblica. Lavori che il meteo però ha posticipato ma da palazzo di città promettono e solo questioni di giorni. La città, soprattutto i commercianti delle attività economiche che si affacciano lungo le vie di cantiere, attendevano da tempo questo momento. Oltre ai lavori di rifacimento della pavimentazione, il progetto ha previsto anche il rifacimento dei sottoservizi e un nuovo arredo urbano. Rispetto al passato sono stati portati diversi cambiamenti, a partire dal numero dei parcheggi, inoltre tutta l'area è dotata di arbusti e di panchine. Anche l'arredo urbano è stato cambiato, portandolo in armonia con le altre zone del centro già riqualificate. Con la riapertura delle strade Marconi e Binda, attenzione alla viabilità. In via Marconi per esempio, a differenza del passato, si potrà transitare solo proveniendo da Corso Ferraris. Chi scende da via Binda dovrà necessariamente svoltare a sinistra verso via Gramsci o via Cadorna. Per un cantiere che si chiude, un altro è già pronto ad aprirsi. Si stima il prossimo mese di giugno. Si tratta del primo segmento di via Binda, compresa Piazza Cortesia. Un investimento per le casse comunali di circa 400 mila euro, che va a sommarsi ai quasi 2 milioni di euro spesi per via Binda, Marconi e Piazza Cavour. Il cantiere dovrebbe concludersi entro fine anno, mentre nel 2026 dovrebbe essere in agenda l'asfaltatura di via Cadorna. Ora le elezioni a Verbagna. Tace Fratelli d'Italia. Davide Titori, coordinatore provinciale del partito di Giorgia Meloni, ha annunciato una conferenza stampa a commento della decisione romana di appoggiare la candidatura di Mirella Cristina, candidato sindaco della coalizione, nelle prossime ore. Ma la scelta romana di sconfessare l'accordo già stretto da Fratelli d'Italia, Lega e Giandomenico Albertella viene eletta come merce di scambio. Nessun commento ufficiale all'indomani del vertice di Roma che ha deciso le sorti del centrodestra a Verbagna con la scelta di Mirella Cristina come candidata sindaco della coalizione. Si è chiuso nel silenzio Davide Titori, segretario provinciale di FDI. Ci sono molte cose da dire, ma nel rispetto di tutti, i cittadini in primis vanno dette nel modo e nel posto giusto, ha scritto questa mattina ai giornalisti via WhatsApp. Convocherò a breve una conferenza stampa, in quella sede ci parleremo. E ancora, devo chiedervi di accettare e di aspettare le mie dichiarazioni all'ora. Fino alla conferenza non rilascio virgolettati. Abbiamo provato in giornata anche a contattare i vertici regionali e romani di Fratelli d'Italia, ma al momento senza risposta. Dalla Lega nessuna novità in merito a quanto già esternato ieri con l'appoggio confermato a Cristina, ma anche un riferimento di Montani, segretario provinciale a Fratelli d'Italia, che dovrà assumersi, dice, onori e oneri di questa scelta. Silenzio da ieri anche da parte di Gian Domenico Albertella, candidato sindaco di Verbagna Futura, al quale fino a ieri i Fratelli d'Italia e Lega avevano assicurato l'appoggio, ma che ora rimanda a qualsiasi dichiarazione, anche lui, a una conferenza stampa al momento non ancora convocata. Albertella, che non risponde ai giornalisti, si è limitato a confermare sui social che andrà avanti con la propria lista. Intanto passa all'attacco Riccardo Brezza, candidato sindaco del Partito Democratico. Verbagna trattata come merce di scambio sui tavoli politici nazionali, dice in una nota. Questo è il brutto spettacolo che Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia offrono alla città, danneggiando prima di tutto i loro elettori, che non meritano questo trattamento. Quando diciamo che il vento deve cambiare, pensiamo anche a questo, a un nuovo modo di fare politica, con entusiasmo e passione, mettendo al centro Verbagna, sopra ogni cosa. Brezza si rivolge poi ai gruppi ancora indecisi. L'appello che rivolga a tutte le forze politiche e civiche che hanno a cuore il futuro di Verbagna è molto chiaro. Uniamoci, costruiamo il nostro futuro insieme. Intanto Ambiente Verbagna ha presentato le proposte che ritiene fondamentali per costruire una possibile alleanza in vista delle prossime elezioni. Ambiente Verbagna, dopo le primarie, sta facendo le proprie valutazioni, ma soprattutto sottopone le sue idee ai candidati. Sottopone. Più che sottoporre, noi riproponiamo i nostri contenuti programmatici. Ambiente Verbagna esiste perché ha delle idee, dei progetti, che abbiamo riportato in un documento che verrà condiviso nei prossimi giorni, e pensiamo che attraverso queste linee, questi contenuti, si possa non solo costruire una strategia utile all'amministrazione nei prossimi 5-10 anni, ma anche un aspetto di coerenza su alcuni temi specifici, quelli ambientali e sociali, che sono stati richiamati ampiamente negli ultimi mesi e che noi pensiamo siano prioritari. Quindi dialogo aperto sia con Brezza che con Comoli? Il dialogo aperto c'è, è discutibile, perché è nell'interesse del centro-sinistra e quindi, secondo noi, della città, dialogare, ma portando buone idee, portando elementi di concretezza che per realizzare alcuni obiettivi sono indispensabili. Tra gli obiettivi c'è la questione della Sassonia e poi tanto sulle tematiche ambientali. La Sassonia è una questione che oggi si riapre, se vogliamo. In un ultimo incontro, attraverso anche il contributo di tecnici, abbiamo portato degli aspetti, sono noi, interessanti, le questioni che riguardano il verde, la rifunzionalizzazione dell'area, la rialocazione dei parcheggi, anche una dimensione culturale e sociale che la Sassonia può esprimere. È una sfida per la prossima amministrazione, una grande opportunità della città di risolvere una questione aperta 20 anni fa e non ancora risolta. E delle elezioni verbanesi si occupa questa settimana extra con interviste a Cinzia Vallone, candidata a sindaco per Centro Riformista per Verbagna, Italia Viva, Azione e più Europa e anche a Mirella Cristina, proprio sulla vicenda che la riguarda e che sta interessando il centro-destra. Area ex Irmel a Omenia, al via in questi giorni i rilievi interni all'ex fabbrica per capire se lo stabile potrà in futuro ospitare un silos da adibire a parcheggi. Si parte con le indagini sulle parti statiche dell'edificio, poi si verificherà se la struttura è idonea. Un lavoro propedeutico alla progettazione. Si è aperta una settimana importante per il futuro della ex Irmel, per il progetto tanto voluto dall'amministrazione comunale e dalla giunta Berio. Infatti sono cominciati i rilievi per capire se a livello statico questa struttura potrà diventare un silos, assessore. Sì, detto bene, questa settimana iniziano i rilievi per rilevare tutte le parti statiche dell'edificio e a seguito di questo intervento inizieremo le indagini materiche con tutti i sondaggi per verificare le strutture se sono idonee a sostenere i pesi per il silos dell'autovettura. Che tipo di intervento verrà fatto nel corso di questi giorni? Che tipo di rilievi saranno fatti? Allora, verrà fatto tutto un rilievo dell'area con drone per verificare tutti i confini e i perimetri rifabbricati. Poi internamente si andranno a rilevare tutte le strutture, quali pilastri e trari, per poi restituire graficamente e dar luogo poi alle indagini puntuali di tutte le strutture, i ferri e i cementi armati presenti. Dal punto di vista del cronoprogramma cosa vi aspettate? Il cronoprogramma ci aspettiamo che questa settimana venga ultimato il rilievo e restituito agli ingegneri strutturisti per poi iniziare settimana prossima le indagini materiche. Con rilievo che verrà fatto da chi? Dallo studio Geotech di Omenia, Durando e Albertini. Tante novità per VCO Trasporti. Un bus elettrico sta girando in questi giorni per Verbagna in via sperimentale. Dal 15 aprile aumentano le corse sulla linea urbana con frequenza di ogni 15 minuti. Tante novità per VCO Trasporti a cominciare da questo bus dove ci troviamo ora. Sì, questo bus è una prova che stiamo facendo per essere pronti appena usciranno i bandi regionali con i contributi. È una prova che stiamo facendo di gestione degli autobus elettrici perché la nostra prospettiva è quella di andare a elettrificare tutta l'aria che c'è tra Verbagna e Domenia che è quella a maggior domanda di trasporto pubblico locale e quindi convertire la flotta degli autobus da gasolio ad elettrico con questa tecnologia sicuramente più green e più interessante per il futuro. Ci sono anche novità sulla frequenza dei passaggi dei mezzi? Una richiesta arrivata da tempo dai cittadini? Assolutamente sì, siamo felici di poter dire che a partire dal 15 di aprile sperimenteremo dei nuovi orari che permetteranno di avere dalla fascia sulla realtà di Verbagna dalla fascia tra le 7 di mattina e le 7 e un quarto di sera un autobus al massimo ogni quarto d'ora. In realtà sarà meno di un quarto d'ora, saranno circa 10 minuti per cui attraverso questo aumento considerevole del numero degli autobus e dei passaggi nella tratta tra Pallanza e Trobaso siamo certi di venire incontro a un'esigenza dei cittadini e di creare in questo modo col trasporto pubblico una valida alternativa all'utilizzo del mezzo privato. Oggi anticipiamo quella che sarà poi la presenza in città di busse elettrici sulla principale tratta che è quella che va a Omenia e dal 15 di aprile partirà il servizio ogni 15 minuti sulle aree urbane che consentirà così a ciascuno di noi di cambiare magari anche le proprie abitudini ed evitare di utilizzare l'auto questo ovviamente per un vantaggio ambientale ma anche un vantaggio di vita collettiva la metà del costo per ogni abbonamento viene coperto dal comune di Verbagna che quindi in questi anni, penso che lo scuola busse è gratuito ha cercato di sostenere l'utilizzo del trasporto pubblico e anche di sperimentare una mobilità diversa. Un camion della società Medio Novarese Ambiente divorato dalle fiamme è successo martedì mattina intorno alle 8 a Borgo Ticino il mezzo era impegnato nella raccolta della plastica quando è successo il fatto è avvenuto nella zona industriale non lontano dall'area di raccolta dei rifiuti e da una cabina della distribuzione elettrica il mezzo era carico di materiale il conducente ha fermato il camion in una zona aperta e si è messo in salvo l'allarme lo ha dato lo stesso operatore del Medio Novarese Ambiente sul posto sono intervenute tempestivamente due squadre dei vigili del fuoco di Arona con 5 unità e 2 mezzi un'alta colonna di fumo nera o visibile da decine di chilometri si è alzata dal luogo dell'incendio dopo tre ore il rogo era spento e la zona bonificata si dovrebbe escludere qualsiasi ipotesi di dolo ma risalire esclusivamente ad autocombustione innescata dal motore o da un guasto dell'apparato elettrico Arona figura nell'elenco delle città italiane dove è forte il peso delle sanzioni rilevate da Autovelox dato che certamente non incontrerà il favore degli automobilisti tutti i dettagli nel servizio la città di Arona si classifica tra le prime dieci in Italia per importi di sanzioni derivanti da Autovelox il dato si riferisce all'introito pro capite rapportato con tutte le città e paesi non capoluogo di provincia o regione la ricerca è stata pubblicata dal mensile specializzato 4 ruote la classifica viene suddivisa in due segmenti le città capoluogo e quelle minori Arona ha introitato 1.800.000 euro che suddivisi per i 13.675 abitanti darebbe un incasso pro capite di 134,55 euro ci sono paesi ben più piccoli che hanno introitato di più in quanto attraversati da strade di grande comunicazione come Bagnolo Po in provincia di Rovigo che ha introitato poco più 1.900.000 euro ma solo 1.235 abitanti quindi con un incasso pro capite di 1.554 euro oppure Melpignano in provincia di Lecce 2.550.000 euro per 2.126 abitanti per un introito pro capite di 1.199 euro ancora Paupisi in provincia di Benevento introito complessivo 1.500.000 euro 1.432 abitanti per 1.047 euro pro capite tra le grandi città invece Firenze ha un introito pro capite di 64 euro proprio come Grosseto Modena 30 Milano 9 Roma 2 tra chi cassa di meno troviamo Napoli che ha complessivamente solo 27.000 euro incassati oppure città come Bari, Perugia, Catanzaro e Campobasso che non registrano alcun introito dalle multe elevate tramite strumenti automatici di controllo della velocità il nuovo codice della strada prevede norme meno severe per quanto riguarda le rilevazioni che non dovranno più essere attivate con il solo scopo di fare cassa intanto, tornando ad Arona sta per essere attivato il nuovo sistema di rilevamento autovelox non più ancorato al muraglione ma posizionato su paletti in modo da non essere alla portata dei vandoli tutto questo in vista del nuovo gestore che si occuperà della rilevazione All'ospedale di Domodossola la presentazione di alcune delle donazioni di pediacop al nosocomio dalla cooperativa anche borse di studio per gli studenti di medicina Apparecchiature tecnologiche anche a redi circa 120.000 euro il valore delle ultime donazioni di pediacop all'ospedale San Biagio di Domodossola tra questi un ecografo alla neurologia che contribuirà ad accorciare le liste d'attesa per l'esecuzione dell'ecodoppler nei due ambulatori di Verbagna e Domodossola due video capillaroscopi uno portatile alla medicina interna una sonda per sistemi ecografici al punto nascita e un sistema ecografico wireless e portatile alla radiologia consentirà di eseguire anche radiografie a domicilio Siamo molto onorati che le nostre donazioni siano state accettate dalla direzione generale e da tutto il personale medico e infermieristico dell'ospedale stesso siamo a disposizione per queste donazioni perché come voi sapete la cooperativa non può avere utili e questi utili possono essere investiti sul territorio noi vorremmo investire sul territorio stesso in modo maniera che chi venga a usufruire di queste prestazioni abbia sempre il meglio di fronte alla sua patologia Sono tante attrezzature che in un periodo di tempo relativamente breve questa splendida realtà economica ha offerto ai nostri servizi la tecnologia per noi è sempre più importante e come ho detto tra l'altro c'è un tasso di obsolescenza molto rapido quindi purtroppo dobbiamo in qualche modo inseguirla questa tecnologia incoming come si dice abbiamo avuto l'opportunità di ottenere delle apparecchiature che possono fare molto valore per i pazienti e per le diagnosi per il comfort e per l'accuratezza della gestione dei pazienti e questo è un risultato per noi molto importante Un'altra importante donazione per l'ospedale Domese Una donazione importante e come ricordo sempre qualunque atto di generosità rivolto al nostro ospedale San Biagio non può che essere accolto dall'amministrazione con grande entusiasmo Servizio gratuito di decorazione delle uova di Pasqua offrirlo ai clienti dell'Ossola Outdoor Center di Crevola d'Ossola gli studenti del primo anno del Formont di Villa d'Ossola Quest'anno il Formont compie 40 anni di attività quindi questo è uno dei primi appuntamenti che avremo con l'Ossola Outdoor Center è un impegno che ci prendiamo molto volentieri nello specifico quest'oggi siamo venuti a decorare le uova di cioccolato che i clienti del centro commerciale acquistano e noi molto volentieri ci prestiamo a decorarli anche per i ragazzi è una prima esperienza lavorativa perché sono ragazzi di prima e di seconda è un ottimo bagaglio anche per loro sta andando tutto bene un ringraziamento all'Ossola Outdoor Center e ci vedremo sicuramente più avanti Nuovo appuntamento con l'appetito Vienleggendo ospiti di questa puntata la scrittrice di Domodossola Antonella Marangoni con il suo nuovissimo libro Alchimia del Volto che ha presentato a Space a Fondotoce e poi Luca Ammirati intervistato da Matteo Calzaretta che a Villa Giulia ha presentato a Ariston la scatola magica di Sanremo scritto insieme al proprietario del teatro più famoso d'Italia Walter Vacchino l'appetito viene leggendo va in onda il mercoledì alle 21 il giovedì alle 14 il venerdì alle 18 e giovedì alle 18.30 con repliche venerdì alle 13 e alle 21 l'appuntamento è con l'Infinito dentro un bisogno la trasmissione a cura del CST Novara VCO dedicata al mondo del no profit In apertura di questa puntata dell'Infinito dentro un bisogno il nostro direttore Caterina Mandarini nel suo editoriale ci presenterà due sportelli promossi dal centro servizi quello per il credito agevolato e quello relativo ai bandi e progetti andremo poi a Domodossola al centro trasfusionale dove opera Avis Ossolana impegnata nella donazione del sangue ma anche in tanti altri progetti quest'anno Avis Ossolano tra l'altro festeggia un compleanno speciale i 70 anni di attività e prevede anche chiaramente diverse iniziative per questa celebrazione resteremo poi in Ossola dove andremo a conoscere Sentieri degli Spalloni impegnata a promuovere la montagna e i territori di confine tra Italia e Svizzera rievocando e dando valore alla memoria anche del fenomeno del contrabbando che ha caratterizzato chiaramente come tutti sappiamo la nostra storia ma vediamo che cosa ci aspetta in questa piccola anticipazione Avis Ossolana è associazione volontari italiani del sangue è attiva a Domodossola dal 1954 originariamente si chiamava Avis Domodossola e poi il nome è stato cambiato in Avis Ossolana per lanciare proprio il messaggio del fatto che raccoglie tutti i comuni dell'Ossola quindi dalla Val Formazza all'ultimo comune ossolano che è Orravasso che cosa facciamo? reclutiamo donatori i nostri donatori donano gratuitamente il proprio sangue che viene poi fornito alla nostra Asla in questo caso e che verrà poi destinato a chi ne ha bisogno anche eventualmente a delle strutture ospedaliere che sono al di fuori dei confini del BCO Vi aspetto allora non mancate giovedì sera alle 18.30 naturalmente su Azzurra TV E ora lo sport il 15-16 giugno si correrà una nuova edizione del Rally delle Valli Ossolane le iscrizioni al 60esimo Rally apriranno il 14 maggio Manca ancora parecchio tempo al 60esimo Rally Valli Ossolane che si correrà sabato 15 domenica 16 giugno ma la macchina organizzativa di New Turbo Mark è decisamente già messa in moto per una edizione che vuole essere storica sotto tutti i punti di vista qualche dettaglio è già stato svelato su tutti quello che sarà ancora la Valle Vigezzo e nello specifico Druogno a fare da location di partenza ed arrivo della corsa il connubio tra la competizione più amata del motorsport locale e la Valle dei Pittori funziona e continua con reciproche soddisfazioni Domodossola ospiterà le fasi di riordino delle vetture e Crevola Dossola ospiterà infine il parco assistenza del tracciato di gara non si conoscono ancora i dettagli difficile non immaginare nel percorso prove leggendarie come Cannobina in una delle sue tante possibili versioni come Crodomozio e perché no Montecrestese una succulenta novità però è già stata annunciata e sarà un vero e proprio segno distintivo del 60esimo Valli Ossolane una breve prova spettacolo che il sabato animerà il centro abitato di Druogno regalando alla Valle di Gesso un ruolo di primo piano non solo come partenza ed arrivo ma anche come cornice della prima prova speciale in programma non mancheranno poi tante manifestazioni con la terra di a tema coinvolgendo scuole materne primarie di tutto il territorio in lezioni basate sull'educazione stradale con relatori i piloti che hanno fatto la storia del Valli o sostenendo il gruppo donatorio Solani Midollo Osseo e Avis la corsa poi sarà certamente suggestiva con caffoni e grossi reduci da un secondo posto assoluto al Camuni a rally che cercheranno di vincere il Valli per la nonna volta per essere i più grandi di tutti di questo però ci sarà tempo per parlarne E ora le bocce con il Possaccio che mette a segno un importante punto contro Giorgione Trevillese Avevamo chiesto nell'ultimo servizio sulla Raffa si salveranno i nostri eroi ovvero quelli del Possaccio La risposta parziale ma importante è arrivata sabato nella rivincita contro Giorgione Trevillese Sì le speranze di salvezza sono ancora buone ma guai ad abbassare la guardia Si trattava della prima giornata di ritorno è finita 4-4 ma poteva tranquillamente essere una vittoria sfuggita per qualche sbavatura nelle ultime sfide di coppia punti buttati che sono un rimpianto Gli altri risultati della decima giornata Kennedy Nola Mosciano 5-3 Mister Energy Flaminio 3-5 Sant'Angelo Montegrillo Vigasio 7-1 Santa Chiara Caccialanza 2-6 per una classifica che recita Vigasio punti 24 Giorgione Trevillese 17 Caccialanza 16 Flaminio 15 Santa Chiara 14 Mosciano 12 Kennedy 11 Possaccio 8 Mister Energy 6 La rimonte è ancora lunga e difficile ma i primi segnali si sono intravisti soprattutto nella terna mentre il nuovo individualista di stagione Giovanni Scicchitano non ancora al meglio della forma è stato in grado di rimediare un set vincente contro il forte Giuseppe D'Alterio In terna si presentano per Possaccio i soliti signorini al punto e Mazzorini al tiro ma stavolta insieme a loro ecco il jolly Cristian Andreani che sarà decisivo in alcune raffe a fondo asse Ricci, Tarantino e Cossu debbono soccombere ai tre verbanesi che vincono prima per 8 a 6 e poi ancora per 8 a 4 da tempo la terna verbanese non vinceva entrambi gli incontri Scicchitano invece dapprima batte D'Alterio per 8 a 6 e poi perde 6 a 8 si va all'intervallo sul 3 a 1 per Possaccio più dura la lotta nelle quattro gare di coppia partono bene Scicchitano e Turuani che si portano sul 6 a 3 poi un subentrato Sciccone cambia l'equilibrio supportando bene D'Alterio e la sfida si chiude sull'8 a 6 per gli ospiti sull'altro campo signorini Andreani sono contro Tarantino e Ricci e partono malissimo 0 a 4 poi rimediano ma alla fine vanno sotto 4 a 8 il punteggio totale è adesso sul 3 a 3 serve un colpo per salvare Capra e Cavoli arriva da signorini Andreani che vincono 8 a 3 la loro seconda sfida dopo aver perso la prima per 4 a 8 almeno il pari è cosa fatta anche perché dopo tre scambi cavalgono il 5 a 0 per Scicchitano e Turuani i rivali rimontano e vincono 8 a 5 ora ci saranno due settimane di pausa il campionato riprende il 13 aprile sempre in casa contro Sant'Angelo Montegrillo e per il momento è tutto grazie per averci seguiti buona serata grazie a tutti